Dal cantiere del Pincio, in particolare nella zona antistante Porta Maggiore, da diverso tempo gli archeologi della sovrintendenza Le Belle Arti stanno lavorando giornalmente su alcune importanti evidenze emerse dagli scavi. In particolare, a riemergere dal passato, sono una serie di cunicoli sotterranei la cui datazione è ancora da esprimere, ma sicuramente in base al materiale ritrovato risalente all'epoca medievale della porta, che si addentrano con ogni probabilità al bastione del Nuti, sino anche a scavalcare il fossato, naturalmente questo in funzione di un assedio della città. Inoltre, per un sito di questa rilevanza storica, che va dall'epoca romana fino al Rinascimento, era impensabile non trovare qualcosa. Magari le tracce dell'antica perimetrazione della città, fatta in palizzate di legno, che inglobava il nuovo nucleo abitato attorno alla Basilica di San Paterniano e che ridisegnava il nuovo centro di Fano, poi inserito nelle nuove mura cittadine, o se uno dei camminamenti ritrovati possa essere ricondotto addirittura alla Fano romana. Di certo sta di fatto che qualsiasi siano le evidenze che ne verranno fuori saranno di impagabile valore storico, per la definizione ancora più precisa dei mutamenti e delle trasformazioni che nel tempo Fano ha subito. Quindi una grandissima rilevanza storica, anche archeologica, perché acquisisce ulteriori dati all'archeologia di Fano, già comunque abbastanza ricca, molto ricca direi, e ovviamente una finestra che sarà presto restituita a livello di conoscenza e di comunicazione alla cittadinanza. Naturalmente che quest'area sia uno dei gioielli di Fano è indiscusso e la speranza è che i reperti storici che emergono dal cantiere siano sfruttabili a vantaggio del patrimonio storico-culturale della città, tenendo conto anche dell'impatto che un sito come questo, in termini tecnici di archeologia urbana, potrebbe avere sul tessuto sociale della città. Beh, è una città che non finisce mai di sorprenderci e scopriamo ogni giorno di avere un tesoro inestimabile, quindi ci consente di capire bene qual è stato il percorso di quell'area, ma diventa anche un momento di restituzione alla città, della nostra storia e delle nostre bellezze. Dico anche che cercheremo di fare anche delle visite guidate in modo tale che si possa vedere prima anche di quello che sarà la scelta della sovrintendenza futura, ripeto perché è un valore importantissimo queste scoperte fatte che aggiungono valore alla nostra città. Grazie.